L'accensione della lampada votiva di San Francesco è un rito tradizionale che si svolge al santuario di Paola in Calabria. Durante questa cerimonia il presidente della regione, Roberto Chiuto, ha acceso la lampada votiva dedicata a San Francesco, il patrono della Calabria. Questo gesto simbolico rappresenta la devozione e la preghiera rivolta al santo, chiedendo la sua protezione e la forza di affrontare le sfide della vita. Dopo l'accensione il governatore Chiuto ha lasciato un messaggio per tutti i cittadini e rivolto una preghiera al santo. C'è tanto ancora da fare per costruire una nuova Calabria. San Francesco, dai la forza ai calabresi e soprattutto a chi tra loro ha più responsabilità perché li guida per costruire una nuova Calabria senza farsi prendere dalla tentazione, dello scoraggiamento e della rassegnazione. Dai ai calabresi la forza di combattere come tu hai fatto contro il male, contro il male della diffidenza, della delusione che nulla fa cambiare. Grazie a tutti.